E allora qui ho di fianco a me un vaso meraviglioso in ceramica disegnato da Galileo Chini nei primi del Novecento ma poi esposto a Parigi nel 1920. Ecco, in un vaso come questo si vede la novità della forma che è una forma che ricava quella degli antichi albarelli ma che ha una sinuosità e una fascinazione anche molto femminile decisamente di gusto Art Nouveau. Però nel decoro e qui viene il grande genio e la grandissima cultura di Galileo Chini nei primi del Novecento troviamo un decoro che ci avvicina quasi a un mondo di una cultura slava e a una policromia fascinantissima che la troviamo in Persia e la troviamo in Turchia alla fine del Cinquecento. Quindi il comporre l'elemento vaso nel Novecento italiano molto spesso è proprio la summa di una cultura fra la tradizione del paese, il genio dell'artista ma anche tutta la cultura che l'artista ha già dentro di sé. Grazie! Grazie a tutti